Sì, grazie Presidente. Ho ascoltato con attenzione gli interventi delle opposizioni. Sinceramente le motivazioni espresse spiegano solo in parte l'enfasi con la quale le opposizioni si oppongono a questa delibera. Questa delibera parte da un concetto di riqualificazione di un palazzo in disuso, l'abbiamo detto, l'ha detto l'Aulio Dottorio di Assessori Competenti, completamente abbandonato da anni, che oggi è degrado, e con gli oneri di un cinema di prima visione permette di riqualificare due cinema, teatro, in altre zone della città, oltre alla riqualificazione stessa dell'edificio. Quindi, se guardiamo la contrattazione che c'è stata con il privato, penso che la maggioranza ritenga di aver fatto un ottimo lavoro nell'aver rappresentato il peso tra interesse pubblico e privato. Dicevo, non riesco sinceramente a capire le motivazioni di questa enfasi, però allora facciamo un parallelo. Le amministrazioni precedenti sono mai intervenute in casi analoghi? Ebbene, se andiamo un po' più avanti su Via del Corso, abbiamo a Fontanella Borghese il nuovo palazzo Fendi, che è stato ampliato e ristrutturato. Non c'è dato di sapere, ma indagherò sicuramente, su quali oneri, come sono stati distribuiti, e se la procedura era corretta, è stata fatta con un accordo di programma o meno. Altro caso ancora più eclatante, un poco più vicino al Palazzo Metropolitan, c'è un palazzo, che oggi è sede di H&M, e questo palazzo è stato sede di profonde trasformazioni, 4.000 metri quadri, con una terrazza progettata da Fuxas, la lanterna, forse il preludio alla nuvola, e quindi una trasformazione molto più potente di quella di questo Cine Metropolitan. Questa ristrutturazione, alluderemo anche qui, come è stata portata avanti, se sono stati fatti tutti gli atti previsti in delibera, al termine di questa ristrutturazione i proprietari Benetton hanno venduto questo palazzo a 180 milioni di euro al gruppo H&M. E quindi, diciamo, magari l'interesse si spiega con il fatto che c'è un palazzo su Via del Corso che questa amministrazione, semplicemente una negoziazione pubblico-privato, qualunque sia il privato, valutato l'interesse pubblico conseguente, porti a benefici per la cittadinanza. Questo sta facendo questa amministrazione. Ora noi indagheremo sui casi analoghi, ma siamo, ripeto, molto contenti del lavoro che è stato fatto e sarà importante poi andare a discriminare il progetto di qualità che porterà a dire cosa ci sarà all'interno del palazzo che oggi è attualmente sede del Metropolitano. Questo sì, questi devono essere criteri di alta qualità, quelli declinati dall'Aggiunta. Bisogna vigilare affinché le attività in esso contenute abbiano anch'esse un valore culturale. Ricordo che il cinema, di prima visione, ha un interesse preminente commerciale e solo in parte culturale. Anche la moda è cultura. Ci sono altre attività commerciali che hanno una componente culturale. Quindi non diciamo che non viene rappresentata la componente culturale. Bisogna dire le cose come stanno, bisogna essere trasparenti e mi auguro che in trasparenza scopriremo anche cosa ne è stato degli altri progetti analoghi. Grazie.